Una catechesi dedicata ai piccoli, come Gesù chiama nel Vangelo, chi dipende dall'aiuto degli altri. Papa Francesco, nell'udienza generale in Piazza San Pietro, ricorda che i bambini sono una ricchezza per l'umanità e la Chiesa, un dono anche se spesso sono i grandi esclusi, ed aggiunge che dal modo in cui vengono trattati si può giudicare se una società è libera o schiava degli interessi internazionali. Una società che per oggi è triste e grigia perché è rimasta senza bambini, visto il consistente calo demografico. I bimbi ci ricordano, dice Francesco, che siamo sempre figli, che la vita non ce la siamo data noi, ma l'abbiamo ricevuta, è il primo regalo. Il Papa evidenzia che loro portano un modo di vedere la realtà con sguardo fiducioso e puro, libero dalle incrostazioni della vita che purtroppo rendono di pietra un cuore di carne. I piccoli hanno la capacità di ridere e piangere spontaneamente, capacità che gli adulti hanno spesso perso per strada. Sorridere e piangere, due cose che in noi grandi spesso si bloccano. Non siamo più capaci. Tante volte il nostro sorriso diventa un sorriso di cartone, una cosa senza vita, un sorriso che non è vivace, anche un sorriso artificiale, di pagliaccio. I bambini sorridono spontaneamente e piangono spontaneamente. Dipende sempre dal cuore e il cuore nostro si blocca e perde spesso questa capacità di sorridere e di piangere. E allora i bambini possono insegnarci di nuovo a sorridere e a piangere.